Buongiorno a tutti, good morning, good morning Milano a tutti quanti, giovedì 28 settembre 7.06, precise in questo istante al nostro, niente, non abbiamo lo sponsor dell'orologio quindi non possiamo dire la mano, perché dovevi fare un nome, anni fa, non so se lo seguivi, trasmissione famosa di calcio su una tv locale, aprivano dicendo sono lei, sono le 15.25 al nostro regolo Buongiorno a tutti, come sempre nostalgia canaglia qui a Ranfi al microfono e con noi i Bromasieri Buongiorno a tutti, buongiorno cari cristallini Tutto bene? 3317853555 il numero cristallino per poterci scrivere ed essere parte integrante di questo mitico, fantastico e pluripremiato show del mattina Pluripremiato da chi? Noi, ce lo siamo, l'altro ieri non ti ho offerto la brioche Quello era il premio per la mattina Quello era il premio per la mattina Eh sì, ebbene sì, ebbene sì, e voi invece cosa fate alle 7.07? Mi ha già passato un minuto Che cosa fate in questo giovedì 28 settembre? State andando dove? Dove al lavoro, a scuola, in università, si può andare a stare se l'anno è aperto Quando è che inizia l'anno accademico ufficialmente? L'anno accademico inizia a sparsato Sì, nella mia facoltà è iniziato due settimane fa Ma di solito anche a fine settembre inizia a torre Un po' come gli pare e piace No, ci sono i loro calendari Iniziamo con la musica, è il momento di Ted Waugh, Red Light Pink Floyd, Guns N'Roses, no Ted Waugh Red Light, però è un finale pazzesco Roba veramente con il rock anni 90 Sembra un po' quasi della roba dei Guns Apprezzabile, vabbè adesso Apprezzabile, diciamo Apprezzabile Ho esagerato Apprezzabile che ci siano ancora delle chitarre Infatti, dici questo Apprezzabile ci siano ancora delle chitarre Beh sì Chissà se usano anche l'autotune sulle chitarre ormai No, vabbè saranno suonate sicuramente Però Saranno suonate, spiega cosa significa È che molto spesso La maggior parte degli strumenti Che sentiamo Anche se non sono propriamente elettronici Nelle canzoni d'oggi Sono fatti al computer Ecco, sono suonate dal software diciamo Sì Ho comprato una tastiera MIDI Esatto, da quelle Ah, adesso posso fare Adesso proverò a fare l'ora solo di Ted Waugh Però bello, complimenti No, questo sicuramente l'ha suonato Secondo me era una chitarra Ah, non era una chitarra vera? Sì, sì Ah sì, che è suonato in quel senso Cioè non era, ok 7.11 Masire ha aperto già i siti di internet C'è la prima bella notizia della giornata Notizia importantissima L'abbiamo parlato anche ieri Perché era stato indetto per venerdì 29 settembre Quindi questo venerdì Quindi questo venerdì dal sindacato USB Uno sciopero USB3 o USB-C? Questa è troppo nerda che sono solo gli informatici Uno sciopero appunto Un'agitazione per questo venerdì Ma il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini Ha impostato la riduzione a 4 ore dello sciopero nazionale Di conseguenza USB lavoro Il sindacato USB lavoro Risponde 4 ore non sarebbero sufficienti Per rivendicare i propri diritti E quindi Lo sciopero viene posticipato Al 9 ottobre 9 ottobre che è lunedì Scusa Tutto sto casino Basta la storia di 4 ore La gente non fa più gli scioperi A saperlo prima Se poteva C'era uno sciopero Va bene Però sono 3 ore Non lo faccio più Va bene Non farlo Non mi fai cammè Immagino Salvini Che ha fatto così Ti tolgo le ore Non lo fai Che mi fai cammè Se non lo fai Vabbè Comunque Posso dire Buona notizia per Milano Sinceramente È comunque lunedì A me spiace Vabbè magari non so Se lunedì diceva Potete fare solo 45 minuti Già penso sia abbastanza Un'eccezione Il fatto che Non so se ti ricordi Il 2015 Il 2015 a Milano Non c'è stato Uno sciopero dei mezzi Veramente Eh sì Perché venivano precettati Grazie a Santo Expo Venivano precettati Non potevano fare lo sciopero Quindi abbiamo fatto Praticamente 6 mesi Poi il 31 ottobre Finito Expo Il 2 novembre sciopero Cioè una cosa del genere Però Era molto Bello Invecevano sciopero Il prefetto Precetta I lavoratori di ATM Era bellissimo Perché Perché c'era Expo Era diciamo Una sorta di emergenza cittadina Per cui non si poteva fare sciopero In quel periodo Sai che non mi vedi particolarmente D'accordo Lo so Lo so No Secondo me Siamo arrivati Su certe categorie A dover Secondo me Anzi Lo sforzo sarà quello Secondo me Nel futuro A dover trovare Delle alternative Agli sciopero Perché non hanno più Ma non hanno più Un potere contrattuale Sti sciopero Tant'è che infatti Ogni due settimane C'è uno sciopero Praticamente Lo sciopero non c'è quindi Il 29 No Viene spostato però al 9 Quindi tutto sto entusiasmo Viene già spento Perché al 9 Ci saranno lo sciopero Invece vediamo Com'è la situazione Del traffico Nella nostra città Questa mattina In diretta Quindi proprio Una fotografia live Come fossimo Su un satellite Controlliamo la nostra città Grazie a chi? Grazie alla redazione Di Luce Verde Bianca Zei La mia bocca 7 e 18 minuti Crystal Radio Crystal Radio .it FM 96.2 Dub Plus App iOS e Android E poi ovviamente Se volete vederci Anche con i nostri Bei faccioni Milano All News .it Perché siamo qui In diretta Negli studi Di Milano All News In quel di San Siro Ricordiamo anche Il numero 331 7853 555 Per Buongiorno E cosa possono fare A questo numero Vediamo Colazioni Possiamo fare Colazioni insieme Colazioni virtuali Poi Mandarmi i fondi di caffè Mandare i fondi di caffè E vi leggo E vi leggo Futuro E boh Io sono ariete Se volete farmi Potete fare l'oroscopo Se volete A Masieri Fatelo su ieri Così controllo Se siete bravi o meno Bello Fatelo sulla giornata Ieri Così capisco Non male Partite con tipo Mattinata lenta In rialzo Che va benissimo Per Masieri Proprio perfetta Come definizione Delle sue mattinate Che poi torno a ridormire Ci sono gli stagisti Che sono fantastici Che arrivano alle nove Quei ragazzi Da redazione di là Che dicono Che ieri Mi dicono È fantastico Quando arriviamo È sempre un po' addormentato Mi fa morire Sì Sì È detto così È comprensibile 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 Altre notizie locali Di Milano E città metropolitana A proposito Di scioperi E agitazioni Ti ricordi Fabio Che settimana scorsa Abbiamo parlato Con anche un esponente Di ADL Lombardia Sì Ti ricordi Perché Ecco vedi Lì in quel caso Invece sono molto favorevole A quelle formule Di protesta sindacale Appunto Ci sono dei professori Che protestano appunto In maniera Diciamo singolare Ma più che legittima E anzi Siamo assolutamente Solidali 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 Sul fatto che appunto Un algoritmo Abbia escluso Degli insegnanti Dalle liste Per le cattedre Ma scusa Erano saliti sul tetto Erano saliti sul tetto Del provveditorato Ok Poi sono scesi Perché è stato promesso Un incontro Eccetera L'ha fatto sto incontro? Evidentemente no Perché scatta L'occupazione Del ponteggio Del ponteggio Del ponteggio E con i professori Precari Scusi dalle nomine Nelle scuole Di Milano E Interland Hanno occupato Il tetto Dell'edificio scolastico Regionale Di via Polesine 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 Sai che C'è il Po L'estuario La foce del Po Si chiama Polesine Ecco Ecco Che succede A togliere la geografia Alle scuole Tu hai fatto geografia Fino a quando? Fino alla quinta elementare Eh vedi No Io l'ho fatto anche alle medie E forse qualcosina Anche ai primi anni di superiore Secondo me Sì ma alle medie Abbiamo fatto All'elementare Facevamo le regioni Mi ricordo che c'avevo La pagina del quaderno L'hai fatta male Il Polesine dov'è? Sì ho capito È tra il Veneto E le miglia romagna Ti dicono che i pici Si mangiano in Toscana Ma non è una roba da mangiare È una regione È come dire No ho capito Però Per dire Quella era la geografia Dove è il Salento? In Puglia Vedi perché quello lo sai? Perché vai a farti le canne In termini amici tu a cantare Suonare il bongo Suonare il bongo La chitarrina Col falò Canto Emma Eh infatti Canto Emma Giuliano San Giorgi No quelli C'è il Mammare A fare l'amore Come si chiamano quelli lì? Io ti direi Su un sound system Ah ok Quelli lì Vedi Comunque stavamo parlando seriamente di una cosa Eh appunto Ma tu mi fai andare subito fuori strada In via Dillo te Polesine Ok A Milano appunto Nel pomeriggio di ieri È scattato il blitz Intorno alle 17.30 Dopo un incontro Con i rappresentanti Degli uffici scolastici E una tavola rotonda Terminata Con un nulla di fatto È andato molto bene l'incontro L'incontro c'è stato Ma nulla di fatto Cercheremo di capire appunto Anche magari sentendo Anche perché mi ricordo Che durante l'intervista Che abbiamo fatto appunto con Adesso mi sfugge il nome Mene Scusi Signor sindacalista Che mi dimentico il suo nome Diceva proprio Ma noi siamo contenti Del risultato ottenuto Ci spiace solo il metodo Cioè che dobbiamo salire su un tetto Per essere ascoltati E adesso invece Dobbiamo salire su un ponteggio Per essere ascoltati Un'altra volta Non lo so Cioè Se è il nuovo metodo Per farsi vedere D'accordo Adesso Chiunque sale da qualche parte È come ritirare il numerino In fila all'esse lunga Cioè Usti Io porto subito in quinta Oggi A me Dello spot Non me ne frega Anche bravi Complimenti Anch'io Giustamente Un'agenzia di pubblicità Un'agenzia pubblicitaria Deve far parlare di sé E cavallo L'hai visto il tweet Di Giorgio Meloni Ecco ma sembra Il più assurdo Che la politica Ma in realtà C'è di mezzo poi Il fatto che Che viene rappresentato Una famiglia Perché sé lunga È sponsor Di questo Stati generali Della genitorialità E quindi Da lì Nasce la polemica Ma posso dire È un'azienda privata Potrà fare quel cacchio Che vuole Adesso io non sono d'accordo Magari Sul passaggio che passa Ma posso dire Che è un'azienda privata Oh ma che modo Di comprare sé lunga Finito Cioè nel senso Oppure Che poi Raga Ma se ve lo ricondate Il maccheroncino Nella tasca Della bambina Che lo metteva Il papà Della barilla La pubblicità È pubblicità È finzione Anzi Mi viene da dire Dobbiamo usare la spot Perché è finzione Non è più la nostra realtà Quindi Non lo so Andiamo Secondo me E forse E qui invece faccio critica All'altra parte Mi piace fare un po' critica Sia da una parte Che dall'altra Dalla parte Mi fa ridere Un presidente Del consiglio Che sta a commentare Uno spot Di un supermercato Perché poi è quello Dall'altra Una opposizione Per non dire sinistra Che non ha nient'altro Di meglio da fare Che controllare Sta roba qua Cioè Però No dai Parliamo dopo Parliamo dopo Parliamo dopo Come fai a entrare Su questa canzone Entra Un punto di piedi Poi io ho l'idea Che in realtà Sia una citazione Questa Vasco Capito È una citazione Grande Vasco A proposito Hai visto il documentario Non ho Non ho La piattaforma Di streaming Più famoso del mondo Tutti i soldi Che ti do Tutte le mattine Per venire qua Ma anche la piattaforma Ti sei fatto Vabbè Devo parlare Con il direttore Direttore Devo manzare Lo stipendio Signor Masieri Perché deve farsi La piattaforma Però ho ascoltato La nuova canzone Che ci sono sbagliati Ecco È bella La parola Magari L'ascolteremo insieme Ma Comunque è uscito Questo documentario Su Vasco Che Molti hanno visto Non l'ho visto Neanch'io ancora Ma a parte Che è uscito ieri E lo so Non sto finendo Di vedere The Office Quindi devo finire Di vedere quello Prima di passare Ad altro Ma sono molto curioso Quindi mi sa Che già oggi Se riesco Sta buono Non trovo il microfono Che già oggi Se riesco Magari con un pezzettino A pranzo Me lo guardo Così per capire il mood Notizie Notizie che arrivano Da Milano Da città metropolitana Della nostra zona Finiamo il discorso di prima Dicendo Leggo che questo spot Avrebbe generato Diverse polemiche E contestazioni Chi lo dice? Io lo trovo Molto bello E toccante Giorgia Meloni Presidente Del Consiglio De Ministri De Ministri E ci fermiamo qua E ci fermiamo qua E ci fermiamo qua E' surreale Sta storia Da tutti i punti di vista Di tutti i punti di vista Va bene Domani ti porterò una pesca Va bene Non mangio frutta Così proprio direttamente Così da progresso Non mangiare frutta Fa troppo bene Ministro per la sovranità Allora Purtroppo Torniamo sulle notizie Di Milano Non particolarmente buone Perché? Perché ieri pomeriggio È stato Ho perso Ho perso Eccoci qua Eccoci qua Mi è invecchiato Che brutto tracollo Che brutto tracollo Ieri pomeriggio Mercoledì 27 settembre Si è verificato un incidente In Monte Napoleone Perché una passante È stata travolta Da una lastra Del cantiere Di una nota marca Di profumi Vabbè però Stavolta Non deve succedere Mi spiace Per fortuna Mi immaginavo Un incidente Con un camion In Monte Napoleone Anche lì Vabbè qui c'è un problema Edile I cantieri Sono pericolosissimi Anche perché poi la città È disseminata di cantieri Qui infattivamente Ci sta un po' Ogni tanto ci lamentiamo Quanti controlli Quante regole Qua effettivamente Insomma Bisogna stare attenti E ci sta Che ogni tanto L'amministrazione Il potere Il sistema Rompe un po' Le scatole Con mille questioni Con mille di sicurezza Perché poi infatti vedi Nonostante mille Mille milioni Di permessi E sicurezza Che devi prendere Comunque poi Può succedere Il disastro Insomma Un brutto fatto Questo Però inizialmente Le condizioni della donna Sembravano gravi Tanto che appunto Era stata trasportata In codice rosso Ma non è successo Nulla di grave E poi quando sono arrivati E poi è stata trasportata In codice giallo All'ospedale Mi guarda E le condizioni Non destano particolari Preoccupazioni Insomma tanto spavento E non tanto Meno male Meno male Poi dopo di che Vuoi parlare con la signora Insomma dice Va bene Codice giallo Prendiatelo tu Se vuoi Purtroppo Altra notizia Che poi si collega A un fatto Di cui parleremo Dopo Un operaio Ieri È precipitato Da dieci metri Nel cantiere Del nuovo Grattacielo In Via Melchiorre Gioia Ok Intorno Alle Quattro e venti Di pomeriggio Quarantasei anni È precipitato A dieci metri D'altezza Mentre lavorava In un seminterrato Del palazzo In costruzione Ed è stato Portato in ospedale Mai Mai Per fortuna Mi abituerò A queste notizie L'idea di uscire di casa Per andare a lavoro E non tornare mai a casa Mai più a casa È una cosa che Trovo sconvolgente E lo trovo ancora più sconvolgente Nel 2023 E ne parleremo dopo Parleremo dopo Esatto Di sicurezza sul lavoro Con Pietro Vassallo Presidente nazionale Della sicurezza sul lavoro E questi erano gli ABBA I still have faith in you Siamo molto romantici Sì stamattina siamo molto romantici Prima che ero di Lune Adesso gli ABBA Che dicono che Osservo sempre Fed in te Eh sì Sai che io l'inglese Non lo so particolarmente Ma non è vero poi Dopo mettiamo I Black Sabbath Va bene Chiediamo all'ufficio Programmazione Di mettere il Black Sabbath Per svegliare tutti Alle 7.40 Mando un sms Al nostro direttore Della programmazione Cos'hai ciali davanti? Eh so che non sarei Particolarmente d'accordo Su questa notizia Perlomeno sul tema Ma un altro passo in avanti Per il nuovo Eventuale Stadio del Milan Sando lato milanese Titola Milano Today Ieri si parlava dell'Inter Quindi oggi mi ha parlato del Milan Sarà il più sostenibile D'Italia Sarà Il più sostenibile D'Italia Ma non si farà Boh Ma poi cosa Ma come può Non vuol dire nulla Cioè uno stadio Non può essere Togliamo certe parole Da certi contesti Uno stadio Non può essere sostenibile È una costruzione Cemento Fogne Elettricità Consuma elettricità Anche se gli fai pannelli Cioè il concetto è quello Anche se gli fai pannelli Comunque consuma elettricità Consuma plastica nei bar Cioè consuma La fogna L'acqua Per bagnare il tratto Anche se prendi quella piovana Ma comunque C'è quelle robe lì Tutta quella roba lì Si potrebbe usare per altre cose Quello è sostenibile Allora se vuoi sapere Perché utilizzato Perché viene utilizzato L'aggettivo sostenibile Perché attorno al nuovo stadio Sorgerebbe un'area verde Fruibile Di circa 235.000 metri quadrati Hai capito La forma Sto leggendo adesso Mi fa molto La forma vera e propria Dell'impianto Però non è ancora nota Verrà presentata In una fase successiva Una ciambella Quindi Adesso l'ho presentato Una ciambella verde Al pistacchio Una foresta No c'è il classico rendering Immagino c'è l'Amazzonia intorno Esatto In mezzo Un coso grigio così a caso Con un po' di vetri Non lo sto vedendo Ma sarà così più o meno Giusto? Più o meno Sì Sì Cosa possiamo fare Cosa possiamo dire Per questa Questa vicenda degli stadi Anche basta Anche basta No ma anche basta Allora sti rendering Ormai non ci crede più nessuno Ma no ma La questione è farlo Si fa Non si fa Decidete Capiamo Caro il mio masiere Chiaramente Ognuno ha una sua posizione Io ho una posizione No no ma ascolta me Anche lo stadio Anche lo stadio Anche lo stadio Che si deve fare Però una notizia No 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 Ma guarda allora Caro il mio masiere Mi ricordo Correva il 1990 No ancora prima forse Ancora prima d'Italia 90 Si era aperto il tema Allo stadio lo spostiamo Sì Quindi cioè Siamo Dopo Sono passati quasi 40 anni E siamo ancora lì A dire Lo stadio lo spostiamo E ricordiamo Che lo stadio Comunque Fino al 2026 Lì deve stare Non può spostarsi Sarà ristrutturato In minima parte Per renderlo Fruibile Per la cerimonia L'apertura Dei giochi olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 Quindi Ci sarà tempo Per Quindi anche meno Come dire Ci avete anche un po' Rorto i cabazzisi Come dice Come direbbe qualcuno Di molto più culturato Di me Però la questione è quella Continuiamo A voler Pensare Renderizzare Perché in realtà Il gioco piace Questo è il problema Piace questo gioco Di sognare Sogniamo Questo nuovo stadio A San Donato Sogniamo Di impedire Vedi Sgarbi La Il fatto di Costruire Il nuovo stadio Ci sono dei protagonismi Che poi chiaramente Vengono fuori Dei sindaci Dei vari posti L'abbiamo letto Ieri di Rozzano Bambola Adesso Mayday Alle 7.45 Su Crystal Radio Acquamarina Anna Mena Insieme a GUE Alle 7.51 Su Crystal Radio 331 78 53555 Il nostro numero Di Whatsapp Come potete scriverci Mandarci le vostre impressioni Quello anche che state facendo Questa giornata Ma oggi c'è di più Oggi c'è di più Non è vero Non è vero Assolutamente Perché Crystal Radio Regala La possibilità Non è vero Non è vero Regala La possibilità Il ministero è finta sta roba Lo dico al ministero della finanza E poi arriva a fare Ah non avete fatto il concorso No È tutto finto Cosa che regala Per finta Ai radioascoltatori Finti 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 anch'essi La possibilità di andare a vedere La K-pop Che sta conquistando il mondo La K-pop E quindi se chiamate La K-pop La K-pop band La band Quindi se chiamate Adesso c'è in collegamento qualcuno? C'è in collegamento un signore Proviamo a sentire La regia adesso lo passa Ha vinto Adesso lo passa la regia Va bene Sentiamo chi c'è in collegamento Pronto? Pronto con la radio popolare? No Roberto Non è anche oggi Non è radio popolare È Cristal Radio E lei sbaglia Come sempre a fare il numero Ma pronto? Io ho chiamato il numero di radio popolare 02 radio popolare No 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 Non è 02 radio popolare sicuramente Ripeto Glielo abbiamo mandato noi Settimana scorsa Non so che numero Mi avete dato Io ho chiamato il numero Che mi avete dato voi 02 radio popolare Comunque è su Cristal Radio Anche oggi Che radio è questa? Cristal Radio Io sono sempre Io non so chi sia lei Lo ignoro completamente Ma non voglio avere L'affinità col potere Spoco sicuramente E colluso sicuramente Non si permette Ma io sono ben contento Di essere qui Su Radio Crista Crista Radio Crista Radio Compagni Grandi compagni Non ci sono compagni Sono ovunque I compagni sono ovunque Anche su Cristal Radio Va bene Allora lei come al solito Ha chiamato Il momento in cui Per sbaglio Evidentemente Lei è al bagno Non possiamo chiamare? No stiamo tenendo una trasmissione Lei la tiene male Lei è in diretta Lei è in diretta Quindi Sono in diretta Posso salutare a casa Posso salutare I compagni del Circo La Bovisa I compagni del Circo Salutiamo i compagni del Circo La Bovisa Grandi compagni Che sono in tanti Tra l'altro Sono in tanti Si portano insieme a noi E ci troviamo questa sera Alle 21.30 A Radio Popolare Perché domani invece 9.30 Presidio Tra l'altro presidio Esiste il presidio Di protesta Non voglio sapere niente Protestiamo domani No non glielo chiedo Per protestare Non glielo chiedo Protestate per Per il diritto La protesta Lei ha chiamato Nel momento in cui Stiamo per regalare Dei biglietti Li vuole vincere Vuole andare a un concerto Che concerto vuole andare Allora L'ultimo concerto L'ho visto nel 74 Al palla euro E raguccini Avevo idea Avevo idea Poi non ho più visto Perché non c'è più La musica di una volta Capisci compagno Pensa Noi adesso Le regaliamo I biglietti Per il gruppo Più famoso al mondo In questo momento I Rolling Stones No Quelli mi piacciono Devo dire Un po' capitalista Ma ci sta Rolling Stones Si può ascoltare I BTS Li conosce Sono un gruppo K-pop I BTC I CCT I POT Sono i CCT I buoni di Stato Sono E' un gruppo E' un gruppo Che di Pop coreano Grande la Corea Ebbè la Corea E' uno dei più grandi Paesi del mondo Sempre in lotta Sempre per la grande Voglia di libertà Indipendenza Che la Corea vuole Peccato poi Per quell'altro paese Che usurpa Il nome della Corea La Corea del Sud Che vuole usurpare Il grande leader maximo Ho vinto i biglietti Non può dire queste cose Assolutamente Ha vinto E che adesso stacchiamo Per favore Grazie Regia Grazie 8 e 11 minuti Giovedì 28 settembre Bentornati a Good Morning Milano Siamo nella seconda ora Iniziata La seconda ora L'ora degli ospiti L'ora degli ospiti E oggi ne abbiamo tanti E uno So che particolarmente Ci tenevi E hai voluto appunto Invitarvi con noi oggi Perché ci deve ricordare Un appuntamento Che avverrà fra poco Esatto Un appuntamento Ne abbiamo già parlato Un paio di settimane fa Quando ai nostri microfoni È venuto Giancarlo Restivo E appunto Adesso siamo al telefono Con Pietro Vassallo Presidente Della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro Mi sente Presidente? Eccoci Buongiorno Vi sento benissimo E buongiorno a tutti I vostri E i nostri ascoltatori Eccoci Presidente Le chiedo appunto Di ricordarci Cosa succederà A Cologno Al Serio Cos'è in programma Per il 30 settembre Perché so che c'è Un quadrangolare Di beneficenza Ecco Sì Si celebrerà L'edizione 2023 Della Coppa Del mondo Del lavoro Un torneo Calcistico Un quadrangolare Di calcio Che si svolge Annualmente In giro Per l'Italia Quest'anno Sarà appunto Sul territorio Bergamasco E si svolgerà Allo stadio Giacinto Facchetti Di Cologno Al Serio A partire Dalle ore 9 Scenderanno in campo Noi della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro La squadra La Nazionale Di sindaci italiani Il team Della cultura Che rappresenta Appunto Il territorio Bergamasco Perché quest'anno Come è notorio Bergamo Insieme a Brescia Sono capitali Della cultura Italiana E poi ci sarà Anche la quarta squadra Che è quella Dei giornalisti Rai Questo quadrangolare Di calcio Praticamente Vuole mettere Al centro Attraverso lo sport La questione Del lavoro Perché il lavoro Oggi più che mai Ha necessità Di essere messo Al centro Nel senso Che il lavoro Rappresenta Quella dimensione Attraverso cui Ovviamente Ci si realizza Ma A noi Premio Sottolineare Che il mondo Del lavoro Non può essere Disgiunto Da quell'aspetto Fondamentale Che è la sicurezza Quindi il lavoro Così come deve essere Produttivo Così come Da un punto di vista Economico Deve essere remunerativo Deve essere Prima di ogni cosa Sicuro Ecco quindi Che queste squadre Che scenderanno in campo E che noi le abbiamo Ridefinite Nazionali sociali Perché ciascuna Di esse rappresenta Uno spaccato Differente Della società Si impegnano pubblicamente Ad affermare Questa Questa questione E soprattutto A provare A creare Insieme A costruire Insieme Un movimento Culturale Per la sicurezza Sul lavoro Assolutamente Non so se Noi Nella prima Nella prima Ora abbiamo dato Notizia Purtroppo Ieri pomeriggio C'è stato un altro Incidente sul lavoro In Melchiorre Gioia Milano Direttore La cosa interessante Di quello che fate Poi è Il fatto che Voi parlate di lavoro Anzi Cercando di non farlo solo Nei giorni come quello di oggi Dove dobbiamo ricordare L'ennesima vittima Sul lavoro Ma proprio Cercando di portare Il discorso della sicurezza Anche un attimo Oltre appunto Alla cronaca E ai fatti brutti Che accadono tutti i giorni Esattamente Esattamente Questo è un aspetto Fondamentale Perché si deve parlare Di sicurezza In maniera ordinaria Quindi non in maniera Straordinaria Solamente nel momento In cui C'è una tragedia E questo lo si può fare Nel quotidiano Nella normalità Appunto Ritorno a dire E concependo Il lavoro E la sicurezza Sul lavoro Come una dimensione Un aspetto Integrale Rispetto al lavoro E non possono essere Non può essere Una questione Che viene vista Separatamente Mi preme Sottolineare Che comunque Questo evento Che ci sarà Sabato A Bergamo Ovviamente È un evento Fortemente Sostenuto Dalle istituzioni Perché Ha il patrocinio Del consiglio regionale Di regione Lombardia Di Anci Salute Lombardia Che rappresenta L'associazione Nazionale Dei comuni italiani Dell'ATS Bergamo Che appunto Ci ha dato una mano Un contributo fondamentale Nell'organizzazione Dell'evento Dell'Inail Leggo anche Del coni Lombardia Sul comunicato stampa Del coni Lombardia Che è sempre Un po' Al nostro fianco In tutti gli eventi Che insomma Celebriamo Ovviamente Sul nostro territorio Ma anche Del comune Di Bergamo Piuttosto che Ovviamente Del comune Di Cologna Al Serio Dove Si svolgerà Questa Coppa del mondo Del lavoro 2023 Ma Sottolineo in modo Particolare Che c'è il patrocinio Di Rai Per la sostenibilità E Media Partner Risulta essere anche Nel caso specifico Rai Radio 1 Che durante L'evento Ci darà anche Una copertura Mediatica In diretta Ottimo Ottimo Allora Presidente Ricordiamo velocemente Le coordinate Stadio Giacinto Facchetti 30 settembre 2023 Coppa del mondo Del lavoro E Non possiamo Farsi che Andare Esatto Non possiamo Farsi che Invitare tutti L'appello è quello Di andare Appunto L'appello è quello Di venire numerosi Perché appunto Ci divertiremo Perché Come si diceva Cercheremo di parlare Di queste tematiche In maniera positiva Attraverso il calcio Il torneo Di beneficenza E a sostegno Della campagna Dona più sicurezza Che promuove Progetti educativi Nelle scuole italiane E in modo particolare In quelle lombarde E quindi Ci rivolgiamo In questo caso Anche agli studenti Ai giovani Che sono i lavoratori Del domani Quindi ci aspettiamo E li invitiamo Numerosi Poi nel caso specifico Sarà presente Anche uno special guest Che è il cantante Rapper Freestyle Morbo Che insomma È un po' Noto Fra i giovani E quindi Anche ci sarà Questo spaccato Che magari Potrà servire Per Come dire Allietare Di più Questa parte giovanile A cui ci rivolgiamo La ringraziamo molto Presidente Per essere intervenuto E quindi ricordiamo 30 settembre Stadio Giacinto Facchetti Grazie mille Presidente Ringrazio voi Per la disponibilità Vi auguro Una buona giornata Una buona giornata A tutti coloro Che ci ascoltano Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille A Pietro Vassallo Continuiamo allora Con la musica Invece continuiamo Con la nostra programmazione Perché ho già visto Arrivare anche il prossimo ospite Dal di là del vetro Quindi continuiamo E questi sono I Maroon 5 Li conosci? Certo Li conosci? Sì Vuoi la 1 La 2 O la 5 La 5 Mona Lisa Dominic Fike Alle 8 e 26 minuti Su Crystal Radio Giovedì 28 settembre È arrivato il momento Dei nostri ospiti E quindi Quest'oggi Abbiamo chi Do l'onore a te Di presentarlo Roberto Biscardini Per parlare Di Navigli Perché è presidente Di associazione Di Aprile Navigli Oltre che ex senatore Un curriculum Lunghissimo Lunghissimo Biscardini tenta L'impresa Dove Leonardo fallì Eh si può Pensare Leonardo ci mise Le mani Diciamo Non è che fallì Perché i Navigli C'erano già prima Di Leonardo Quindi ci mise Un po' le mani Però È un'impresa Che possiamo realizzare Io sono convinto Che alla fine La realizzeremo Nonostante le difficoltà Nonostante le incertezze Che perdurano Che perdurano Alla fine Si vincerà Questa battaglia Perché È nella coscienza Dei milanesi L'idea Di riavere I Navigli Che hanno perduto Nel 1929 Ed è Nella coscienza Dei milanesi L'idea Che una città Più pulita È anche una città Con l'acqua Perché noi parliamo Sempre di verde Ma parliamo pochissimo Di blu Quindi penso Che tutte le città A parte le città Che vivono Waterfront Già sull'acqua Quindi Però in generale C'è un grande investimento Nelle città del mondo Non solo quelle europee Ma anche quelle americane O addirittura Quelle asiatiche In cui si investe Sull'acqua E sulla riscoperta Dei fiumi Sulla riscoperta Dei canali I Navigli Come forma nuova Anche di benessere Per esempio Il turismo Ma non solo Il turismo Di massa Anche Il potere Mettere una canoa In acqua E fare un percorso Sui propri navigli Cose che oltretutto Non sono così Fantasta Magoriche O lontane Dalla realtà Perché Assolutamente I moni e lunghi Sappiamo quanto Ad esempio Va in canoa Già sul suo naviglio Che c'è ancora aperto Sul suo piccolo tratto Davanti alla San Cristoforo Insomma di canone Se ne vedono spesso Perché poi I milanesi Ieri ero un convegno Su questo argomento Ho visto che c'era Molto consenso Su questo tema Della Milano Blu e verde I milanesi Non sanno Che aprire Gli otto chilometri Di cui molti Hanno perso la memoria Cioè non sanno Neanche di cosa Stiamo parlando Ricordiamo quindi Questi chilometri Quali sono Infatti Sempre ricordate Gli otto chilometri Chiusi Sono quelli Che vanno Dalla Cassina De Pomme Cioè quindi In alto Di via Melchiore Gioia Stiamo parlando quindi Del Naviglio Martesana Quello che arriva Dall'Adda Dal lago di Co E percorre tutto Via Melchiore Gioia Poi entra in via San Marco Gira a sinistra Quando c'è la chiesa Percorre tutta la cerchia Che si chiama ancora Cerchia dei Navigli Non a caso Via Pontaccio Via Via Francesco Sforza Via Santa Sofia Molino delle Armi E arriva in Darsena Quindi questi Otto chilometri Maledetti Che sono stati chiusi Appunto A partire dal 1929 in poi Però Connettono 150 chilometri Di Navigli Lombardi Cioè Quindi noi Disporremmo Avendo Messo a regime Il sistema E riqualificando Il sistema Perché sia ancora Un sistema Navigabile Disporremmo Di una delle più Interessanti Le reti Navigabili Di Europa Perché non è che 150 chilometri Sono pochi Certo Se uno Pensa All'Olanda Probabilmente Arriviamo a 2000 chilometri O la Francia Avendo Michelin Arriviamo a 3000 Insomma Però È una struttura Abbastanza interessante Molto interessante Peraltro Io sostengo E lo sanno Anche gli europei Con quali abbiamo Contatti Che noi Disponiamo Degli navidi Più belli D'Europa Ma Giusta Europei Perché in realtà Quando lei va a Milano A raccontare questa storia La guardano come un manto Quando è super Al confine Dicono Ah vabbè Che idea è Facciamo sempre Lo fanno tutti Lo fanno tutti Lo fanno tutti Come fa a vivere Questa dicotomia Eh perché Perché ci siamo Abbiamo metabolizzato Una ferita In qualche modo E abbiamo Rimosso Questa questione Che è stata Una ferita Oggettivamente Nel paesaggio Nel paesaggio Milanese Però Quando uno appunto Adesso citiamo L'ultima città Che ha fatto Nuovi navidi Utrecht Che è una Le più interessanti Città Olandesi Non solo Mantiene bene I navidi Che ha Ma ne fa Di nuovi Cioè Quindi siamo Come ai tempi Appunto Di Leonardo Cioè Si progettano Nuovi navidi Perché L'idea Di avere Più Acqua Poi Milano È una città D'acqua Galleggiamo Sopra questa falda Abbiamo di acqua E poi appunto Si tratta Di un controsenso Il fatto di Dedicare così Tanta attenzione Al green Al verde E poi Non Prendere neanche In considerazione Io però Devo fare L'avvocato del diavolo Per tutti quelli Che dicono Vabbè Vabbè I scardini Ne abbiamo chiusi Perché facevano schifo Sti navidi Puzzavano C'erano Le pantegane La manutenzione Lei mi le vuole rimettere Come facciamo Con le pantegane In via San Marco Intanto se fosse Vero queste teorie Dovremmo chiudere Quelli che ci sono Dovremmo chiudere Il navidio Grande Il navidio Pavese Il navidio Martesano E nessuno osa E nessuno osa Dire una cosa E vediamo che spesso Le dicono questo E lei come risponde Appunto Prima tutto questo Poi La seconda cosa Che è una balla Quella che fossero sporchi Il navidio Sono stati chiusi E era proprio Sostenuti Da una propaganda Politica Falsa Per altre ragioni Per ragioni Urbanistiche Sostanzialmente Avevamo alle spalle Nella fine Il 1890 1880 Un piano regolatore Che giustamente Dal suo punto di vista Intuiva Un bisogno Di modernizzazione Della città E intuiva Che la città Avrebbe avuto Le macchine E che bisognava Realizzare strade E si è fatto Un piano regolatore Con tante strade Tante arterie nuove Poi si si è accorti Che era più facile Chiudere i navidi E farci sopra Una strada Come appunto Parlavamo prima La cerchia dei navidi Che non buttare giù La città Per fare strade nuove La ragione Quindi fondamentale Della chiudere i navidi È la realizzazione Di un'arteria stradale Al confine Diciamo Del centro storico Come nuova arteria Se mi fa Fare una circonvalazione Una specie di circonvalazione Allora Lo spazio c'era Ma vale Facciamo prima A mettere il cemento sopra Che a buttare giù Infatti E poi c'è stata Una grande operazione Che oggi conosciamo bene In altre forme Anche a Milano Che era una grande operazione Immobiliare Cioè nel senso Che la chiusura dei navidi Ha consentito La trasformazione Di tutta quella cintura Che se uno Percorre la cerchia dei navidi Sulla 94 Diciamo Percorrendola Nel senso Del 94 Cioè a fianco Destro Della strada Cioè Verso il centro storico Verso l'esterno Si rende conto Che tutta Quella cortina Di case Parlavamo prima Fate bene i fratelli Francesco Sforza Santa Sofia Eccetera Sono tutte case Degli anni 30 40 50 Tutte abbastanza Molto belle Tutte di prestigio Tutte di marmo Marmi bianchi Con pochi accessi Non sono case popolari Naturalmente E sono case Costruite Sul sedime Dei Magazzini Delle cosiddette Sciostre Si chiamavano allora Che erano A fianco Del naviglio Cioè Quelli Che servivano Per Ricapitare I materiali Che arrivavano Le merci Che arrivavano Sui navide Quindi è stata Una grande operazione Di ristrutturazione Immobiliare Di quella fascia Che poi All'interno C'è la via Atterraggio Non a caso Si chiama Atterraggio Perché le merci Arrivavano con l'acqua E atterravano Dietro I nomi delle vie A Milano Danno sempre Un significato Perché ricordiamoci sempre Via Laghetto Perché lì c'era Un lago Perché lì c'era un lago C'era il famoso Laghetto C'era il famoso Laghetto Praticamente dove c'è la statale Praticamente Perché serviva per portare i mari Infatti Infatti 331-78-535-55 Scriveteci Oggi si parla di navigli Ma lei Cyrus Con River E Rivers Sono i fiumi di Milano I grandi navigli di Milano Ricordiamoci sempre I grandi tre navigli di Milano Perché tutti si ricordano solo due Ma c'è il grande naviglio Della Martesana Anche Poi in realtà Ci sarebbero anche altri navigli Perché poi c'è quello di Bereguardo Tutto sono 150 km La somma di tutti i navigli Fa 150 km E basterebbero Aggiungerci 8 km Per rendere tutta questa rete Collegata perfettamente E se vogliamo sognare? Ecco Sogniamo 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 Biscardini Con noi Ricordiamo Roberto Biscardini Sogniamo Potremmo andare oltre Perché Qual è il nostro progetto Se parliamo di navigazione Perché Non ha senso Riaprire i navigli Se non c'è L'obiettivo chiaro Di renderli navigabili Ok Cioè non ci interessa Un mio professore Di università Di architettura Mi diceva Noi non dobbiamo mettere Il pizzo alle mutande Rinde perfettamente l'idea Cioè non dobbiamo mettere Il pizzo alla città Come dire Dobbiamo fare una cosa strutturale La cosa strutturale È la navigabilità La navigabilità Con i navigli riaperti È una navigabilità Che conta Qualche migliaia di chilometri Perché I navigli Vengono Uno dal lago di Como Martesana L'altro Naviglio Grande Dal lago Maggiore Il punto più alto Sono rispettivamente Colico Sul lago Maggiore E E E E E E E Se è l'ora E l'ora Cioè diciamo La valtellina La valtellina Sul lago di Como E allora Queste due punti Ok Alti Non c'è dei laghi Se attraversassero Quando avremo I navigli Riqualificati Milano Poi attraverso Il naviglio Pavece Arrivano Pavia Poi c'è il Ticino Il Po E l'Adriatico Quindi Quindi L'Itinerario È Colico Zagabria No Colico Venezia E Locarno Venezia Locarno Venezia Locarno Venezia Colico Venezia Sono i due Itinerari Insomma Hai capito Lorenzo Ti interrompo Perché al 331 7853555 Ci scrive Il nostro ascoltatore Che salutiamo Che si firma Ercotenna Quindi lo salutiamo Ercotenna Che ci dice però Siete forti Siete forti Sai perché lo dico così Perché mi dice Come avrebbe detto Celentano Quindi vedi È rimasto legato Alla nostra Milano Quindi Grazie a Ercotenna Che ci saluta E dice Siete forti Siamo forti È forte È forte Biscardini È forte Siamo forti Biscardini Io le faccio una domanda Molto concreta Allora Non sulle Pantegane No No Possiamo rispondere Anche sulle Pantegane No Una curiosità Allora Qualora domani Si decidesse Di rendere praticabile Questo progetto Quanto tempo servirebbe E più o meno Quali sarebbero I contro Gli svantaggi Io penso per esempio Appunto Una concentrazione Immobiliare Un aumento Dei prezzi La gentrification Esatto Tutto per dire quello Beh Intanto Viviamo in una città Oggi c'è una Lettera Di un Cittadino Sul Corriere della Sera Che ho letto Ma ogni giorno Ce n'è una Di questo tipo di lettere Dove i milanesi Non si ritrovano Più molto Con questa città Questo è il tema Infatti C'è un piccolo slogan Cioè I milanesi Senza Milano Noi stiamo Conoscendo Delle trasformazioni Fortissime Che in qualche modo Non sono parte Di quella cultura Non dico milanese Ma nemmeno europea Della città Una volta avremmo detto A misura d'uomo Cioè Di una città Vivibile Molto accogliente Di tutti Oggi Rischiamo di dire Sì una città Di ricchi Sostanzialmente Che espelle Le popolazioni Più disagiate Più deboli Un po' Una sorta di modello Londinese Dove al centro Abbiamo i grattacieli Ma intorno Non c'è più niente I valori immobiliari Sono alti La gente Deve andare A V-mercate Col consolo E ricordiamoci Sempre spacciandoci Come città universitaria Che questo È sempre un discorso Che È sullo sfondo Di qualsiasi cosa Città universitaria Che oggi però Si dice Negli studentati C'è un posto Libro su dieci Domande Quindi Ecco C'è tutto Questa problematica Quindi stiamo conoscendo Delle trasformazioni urbane Che secondo me Non ci appartengono In qualche modo Non ci appartengono E i prezzi aumentano Per questo Non perché realizziamo I navigli Aumentano perché Anzi Sento dire Qualche assessore Che addirittura Contento Del fatto Che escano Da Milano I poveri Arrivino A Milano I ricchi Ma che brutta roba Brutta roba Ed è così È successo Negli ultimi dieci anni Sono circa 200.000 Le persone che sono uscite 200.000 Le persone che sono entrate Questo porta Un altro problema Che sono sempre Meno milanesi Che vivono a Milano E quindi La memoria storica Per esempio Parlare di navigli Spesse volte è difficile Perché parliamo A persone che arrivano Da Singapore Ma cosa vuoi che Non sappiano Dei navigli Di Milano Oppure Dei giocatori di calcio Che prendiamo No Ah con noi ne abbiamo tanti Ne abbiamo tanti Ecco Quindi Allora Io non credo Che i navigli Siano O possono essere La causa Di un eventuale Aumento Dei valori immobiliari I navigli Certo Noi non Stiamo riapriendo Per riavere I navigli ottocenteschi Che non ci saranno più Stiamo riapriendo Per parlare Nuove generazioni Però anche per ridare Anima e forma Alla città Cioè Ormai ci sono Delle parole Che sono insopportabili A me sono Sostenibilità Non ci siamo messi d'accordo La prima ora Ho fatto una filippica Adesso vogliono fare Lo stadio sostenibile Come fa uno stadio sostenibile Grazie Seconda parola Insopportabile Rigenerazione urbana Mi scardina Io la voglio ospite fisso Sì la mettiamo ospite fisso Lo vogliamo fisso Sì sì Allora Che cavolo di rigenerazione urbana Che è quella di costruire I grattacieli Là dove c'erano i navigli Peraltro Perché sul via Vecchio e Gioia C'erano i navigli C'erano un altro paesaggio C'era tutto una roba diversa C'era il famoso bosco di gioia Che vuole dire Deglio le storiettesi Memoria Quindi per esempio Io sono convinto Che Riaprire i navigli Vuol dire dare una forma Alla città E la rigenerazione Vera In questo senso La parola potrebbe anche essere Appropriata A una città Che prende forma Intorno ai navigli Per esempio Noi andiamo a pedonalizzare Delle stupidaggini Noi andiamo a pedonalizzare Dei fazzoletti Di città Quando se noi realizzassimo i navigli Inevitamente si realizza Un processo di trasformazione Per esempio Di estensione delle aree pubbliche Estensione delle aree pedonali E connessioni con le aree verdi Per esempio Quando diciamo Verdi e blu Non è solo un problema Come dire Simbolico Con il povero Empio Malara Che oggi non c'è più Abbiamo pensato Cent'anni fa Cent'anni no Perché Non sono così vecchi Va bene Va bene che ha una certa Un curriculum lungo Come aveva detto all'inizio Signority Adesso si dice Una certa signority Ecco Però pensavamo Anche noi Al parco lineare Che dal lago di Comoda Andava a Pavia Correndo in fianco ai navigli Allora questo ha un senso Cioè dove Il verde Non è Quanti albero Pianto Magari A Gorgonzola Perché così Respiriamo meglio A Milano Che anche questa Un'altra fezzeria Basta Non dico più Niente Comunque Continuiamo Continuiamo a parlare Adesso è il momento della musica Ho voluto Un'altra trattativa Abbiamo fatto Con loro Ho voluto mettere Oggi Con l'ufficio Programmazione Si mi vedete distratto Perché sto trattando Con l'ufficio Programmazione Perché diciamo Che insomma La città Bisogna Di essere Si rigenerata Ma poi bisogna stare attenti alle parole La città è sempre bella O meno Così si dice Così si pensa Ma a volte Dietro questa bellezza Poi si nascondono Cose strane E lo diceva anche Il signor G In una canzone famosissima Che voglio mettere questa mattina Com'è bella La città Sempre di più Dice Giorgio Gaber La città è sempre più Piena di scale mobili Macchine Auto Forse però finalmente Si può fare un piccolo passo indietro O meglio In realtà è un passo avanti Forse No Biscardini È un passo avanti Come dicevamo prima Perseguito da tante città Che interpretano il benessere Come Un qualcosa Che il cittadino Può usufruire In fondo Quando io dico Riaprire i navigli È un segno Che va nella direzione Della città Di tutti Perché Lo vediamo Sui navigli Lì ci vanno tutti Cioè L'uso La fruizione Come di un parco Il parco È un parco di tutti Cioè È l'unica cosa pubblica Che non può essere sottratta Alla generalità Di cittadini Nel senso dei navigli Nel caso dei navigli Ci sono tanti fattori Appunto Vederli Vedere l'acqua Che scorre Oltre a tante ricadute Poi ambientali Tecniche Positive Per esempio Per esempio La caduta Del livello Di calore Cioè Per la presenza Dell'acqua Che scorrendo Abbassa Abbassa Il livello Del calore La possibilità Di fare Un grande piano Come noi Stiamo pensando Per installazione Di pompe Di calore Per riduzione Per riscaldamento E raffreddamento Degli edifici Mediante Appunto L'acqua Perché l'acqua Potrebbe essere Prelevata Dalle falde E poi buttata Nei navigli Poi recentemente Girava su internet Ricordo perfettamente L'immagine Della città di Milano Vista dall'alto Con i colori diversi Per temperature Percepite Ed era evidente Che dove c'è Verde E dove Possibilmente C'è anche C'è blu Si vedevano proprio I navigli Praticamente disegnati In verde Perché la temperatura bassa E i vari parchi Il resto Era una macchia rossa E Bordeaux Non c'è dubbio E così come Tanti altri tipi Di ricadute Di carattere ambientale Ma poi Per esempio Fare i navigli Vuol dire Realizzare conche Perché la navigazione Devi superare Il livello Dell'acqua Da monte A rispetto a valle Ricordiamo Che in Lombardia Su tutta la rete Dei 150 chilometri Ci sono 54 conche La maggioranza Ci sono ancora Ma non sono attive Cioè non sono funzionanti 4 o 5 Vanno rifatte Perché non ci sono più Perché sono quelle Che erano nel percorso Degli 8 chilometri Che sono stati chiusi Ecco per esempio La conca Che uno dice Che sanno benissimo Quanto è bello Fare le concate Si dice così Ma anche Chi sta fuori Dall'acqua Quando uno arriva a Parigi E va sul canale San Marten La prima cosa che fa Guarda la barca Che va su e giù Dentro la conca Quindi è un altro modo Di vivere la città Intanto Quando così Teorizzo La città lenta Ma la città lenta Non è andare Velocissimi Con il monopattino Mi piacciono sempre Le stoccate Leggere Bisogna leggere Tra le righe Tra le onde In questo caso Quando Biscardini Fa la sua In maniera Molto veloce Perché siamo quasi In chiusura In maniera molto veloce Ricordiamo Biscardini Che sabato 30 settembre All'interno Della Green Week Ci sarà una vostra Iniziativa Di associazione Riaprire Navigli Quindi per una città Più blu E più green Il titolo Sarà un dibattito Immagino È un'iniziativa Molto popolare Piazzeremo Tavoli Un gazebo Al parco Delle Basiliche All'altezza Di via Molino Delle Armi Ci saranno Dei giorni Che tenteranno Di parlare Con i cittadini Faranno anche La compilazione Di questionari Cosa ne pensi Cosa ne pensi Cosa vuoi Cosa non vuoi E cercheremo Scusate Cercheremo Di spiegare Il progetto Della riapertura Dei navigli Importantissimo Andate ad ascoltarlo Perché davvero Può sembrare Per alcuni Una follia Per altri Anzi È necessario Ma in realtà È proprio Veramente interessante È un tema Molto interessante E molto semplice Anche perché I navigli Diamo l'ultima cosa I navigli ci sono Sono ancora sotto Questo non vuol dire Ricostruiamo i navigli Ma riapriamo Perché sono lì sotto L'acqua Per esempio Via Melchiori C'è ancora L'acqua Basterebbe andare lì Noi tre Col piccone E il naviglio Lo tiriamo su Invece di andare Col piccone A tirare su Le freddiste ciclabili In corso a Buenos Aires Magari Potevamo E dall'altra parte I navigli ci sono ancora Ma sono riempiti Di sabbi Chiarissimo Miscardini Io la ringrazio Come sempre È bellissimo Quando viene qua Perché ci fa sognare Ma ci fa sognare Con un po' di realismo Anche un po' di ironia Sì quello sì Scritturiamolo Come sempre Invece di chiamare Mimmo Balduccio Quegli altri Abbiamo Biscardini Scusa possiamo Rientire lui Bene allora Grazie mille davvero Biscardini Grazie a voi Ricordiamo C'è il sito Sito RiapriNavidi.it Facebook RiapriNavidi Instagram RiapriNavidi RiapriNavidi Ovunque Non il socio È sempre RiapriNavidi Perfetto Allora grazie mille A Roberto Biscardini Continuiamo però Ragazzi continuiamo Stiamo per chiudere Caro il mio Lorenzo Masieri Eh sì sì E quindi anzi Così proprio parte subito La nostra sigla finale 8.57 Ci salutiamo Allora grazie mille Lorenzo Masieri Grazie mille Fabio Raffi Ringraziamo ancora Il nostro ospite Che è qui con noi Per la chiusura Grazie a Roberto Biscardini Grazie a voi E grazie anche a tutti voi Che ci avete fatto compagnia Questa mattina Qui insieme a noi Su Crystal Radio Ci rivediamo domani Buona giornata Ciao A domani Ciao 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 Oh!